È da mesi che io non parlo, ma è arrivato il punto che io ritornerò in America tra poco e voglio cominciare a ringraziare il lavoro fatto dal vostro, perché è stato vostro prima del mio, Beppe Iacchini. Un anno fa è venuto, dopo le prime 17 partite che abbiamo fatto, e ci ha salvati portandoci dal sedicesimo posto nella stagione 18-19 al diecimo posto nella stagione 19-20. Quest'anno non si sa dove si finirà, ma siamo già salvi e credo che ognuno di noi dovrebbe ringraziare Beppe per il lavoro che ha fatto. Quando io sono venuto qui dall'America avevamo una squadra terrorizzata. Prima di quello che è successo, che Prendelli se n'è andato, e dopo che i giornalisti non sono stati molti cari con i giocatori. Questo, in confronto dei giornalisti, i giocatori ancora ce l'hanno, ok? E' stato Beppe, più di ogni altro, a dimettere a posto la squadra. Grazie a tutti.